Ecco fatto, eccolo qua, Bolt un eroe a quattro zampe del 2008, scelgo un po' questo, faccio tutto io, Mulan, poi Tarzan, Mulan secondo, Tarzan 2, e Bolt, bellissimo, e Raya dei film, apro, adesso chiudo, fatto, chi? Grazie a tutti. 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 Disney Nature Films è orgogliosa di presentare una produzione BBC Greenlight Media e Discovery Channel. Lo straordinario film, lo straordinario film evento che racconta un anno della vita delle creature con le quali condividiamo il nostro pianeta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.